Ciao a tutti e bentornati dai Gamers Brothers Qui è Trombon che vi parla Ed oggi siamo finalmente tornati sull'originale, unico e inimitabile Slender Ma oggi non sarò da solo perché qui con me c'è il grande Impossible Gamita Bella ragazzi, sono Impossible Gamita E finalmente, come ha detto mio amico Trombon Stiamo facendo un video insieme con il gioco Slender Solito gioco pauroso Impossibile Impossibile, esatto Dei bigliettini Quindi direi che possiamo iniziare a giocare Allora, io vorrei introdurre il personaggio di Impossible Gamita Giustamente, visto che stanno facendo un video assieme Allora, ovviamente ho un canale su YouTube You Don't Say Mi metterò il canale in descrizione E dal nome, come suggerisce, fa video su giochi impossibili Sono molto carini, sono molto i giochi Poi i video sono molto belli Quindi vi consiglio, anzi no, non è che vi consiglio Vi obbligo ad andare a visitare il suo canale e a descrivervi Bene, la mia presentazione l'ho fatta Se dopo adesso... Adesso faccio anch'io Esatto L'unica cosa che ti chiedo è che hai iniziato anche tu, vero? Sì, sì, ora iniziamo Sì, sì, perfetto Sto giocando, ho preso prima notte Sì, sì, anch'io Allora, ok, anch'io mi presento e presento ai miei iscritti trombon È un canale davvero bello Ovviamente è mio amico ferrarese Quindi deve essere assolutamente Video di molti generi tra Battlefield e soprattutto giochi horror Che a lui piacciono tanto Tipo ovviamente Slender o Aoni Quindi vi consiglio di seguire E vi obbligo anch'io a iscrivervi al canale Tanto non vi deluderà sicuramente Perché mette molti video, anche più di quanti ne metta io Devo dirlo Ti voglio bene Ehm, mi interessa giochiamo a Slender, insomma E adesso io mi sto prestando ad andare nel bagno E mi sto prestando a trovarlo No dai, prima faccio i container Perché sono per me, sono fra bagno e container Non so quale sia il peggior Forse il bagno, anzi no, senza rubare il bagno Fai anche container, non scherzo Ok, Slendino Forza, Slendino Corrompo Ah, ovviamente ragazzi Metterò il video, oltre che al canale Il link del video di Impossible Game Meet A seguire in descrizione Sì, sì, ovviamente Stessa cosa Poi farò lo stesso E quindi, niente Insomma, applico la precisazione Io sono dai container Io aspetta Tra un po' ci arrivo Uh, problema Non mi gusta Slendino, l'unico originale Era da un po' come ci vedevamo, eh Ho fatto tante due mod Adesso vediamo un po' Se riuscirò nota, eccola qui Se riuscirò a finirti anche se Mm, certamente che riuscirò a finirti Si sta stancando e corre poco Perfetto Infatti, consiglio è correre solo quando necessario Anche se io non ce la faccio Eh, neanche io Perché va troppo lento Faccio piccoli scatti Ripetuti periodicamente La farò morire di fatica Ed è una cosa che non è da fare Perché più scatti fai più lui si avvicina Da quelli che ho capito Perfetto, perfetto Comunque, involontariamente sono dal tunnel Eh, io sono, sto trattando nel bagno adesso Ancora, buona fortuna Come ne augurerote Ok, vai Aspetta, com'era con la cosa che mi dicevi che sera nel tunnel C'è un po' nel tunnel È impossibile che ci sia nel camioncino, quello blu o rosso, non mi ricordo Ah, ok, perché nel tunnel c'è il biglietto Allora, da un camioncino stai certo che non c'è un foglio Ok, vabbè È proprio un dato di fatto Ok, qua niente Prima stanza del bagno esplorata Aspetta, se dettelo ricordi Usciti dal tunnel per andare ai container a sinistra Eh, per andare ai container Uh, sì, sì, te lo dico io Te lo dico io perché lo faccio Sì, grazie Sì Nel bagno poi, sì, nella casa Ok, ci sto andando Qui non c'è niente Ho già fatto due stanze del bagno, c'è stato il bagno un fico secco, il che mi fa da però E ci sta entrando anche ora Tanti, 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 tanti auguri Slendy, slendy, no mio Vieni, slendy, no Ok, sono nel bagno, perfetto Ci stai al biglietto subito Ormai con l'esperimento Inquisito Non mi spaventino, ecco il foglio Eccolo qua Terza pagina Bella, e sono ancora due E sono nella casa E io adesso mi appresto a fare l'ultima stanze del bagno, anche se non ci sarà niente, però Sai mai Ho trovato, trovato Grande Fai le altre lo stesso, però Sì, sì, per sicurezza Sai mai che sia un altro Slendino mio Ok, non c'è niente Mi appresto a riuscire dal bagno e quindi, boh, mi dedico da un'altra parte Io sto andando dalle altre due stanze, speriamo che finisca presto Allora Mi sa che l'hai trovato No, 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 ma dietro l'angolo del bagno Oh, mamma No, no, no 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 Slendino Ma ti ha proprio preso No, no, son vivo Ah, ok, oh, va là Oh, mamma Era qui, mo, ma dopo dal video lo vedi Ho girato un angolo per uscire dal bagno e la lì che mi ha segnato Ok, ho fatto tutte le stanze, ho trovato uno, va bene Adesso vado da Oddio, 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 ho trovato uguale, penso che sia stata La scena uguale, dopo mi riguardo il tuo video Dietro un angolo Un uguale No, corre, scappa Mamma mia Mamma Non era così, sì Senti Di... Non aveva da Slendy, così appare Non ci siamo a Slendy Ok, sono dai container Adesso mi hanno... Quindi, dì, mi ha messo la foresta Ho trovato il biglietto, è che subito Che culo, che culo Che culo E comunque sto a tre Io ora a quattro Come a quattro? Eh, sì Ah, perché sono anche dal tunnel Te lo dico E io sono dalle rocce adesso, quindi dovrei trovare... Allora, aspetta dai container Vado dritto Ci dovrebbe essere tipo rocce Sbaglio Eh, se vai dritto, sono le rocce Oh Eh, ecco, ecco la rocce Cioè, no, lag, madonna Però non abbiamo ancora niente, preghiamo Scusate, ragazzo Oh, no, quinto biglietto, quinto biglietto Sono a due FPS al secondo Ma perché? Ma come? Hai vero? Ok Sono a cinque, belle Grande Si entra in zona rischiosa E non c'è niente Comunque guardate il lag, cioè, estremo Non si sa il perché Cavolo Guarda che roba È estremo Due FPS, se mi fermo perché Cioè, due FPS Provo a non correre, non fare scatti Ma non... Oh, si è ripreso Ripreso? Posto Ok, comunque Qui non c'è niente dalle rocce Quindi mi tocca spostarmi Slendino Fai il bravo, slendino Perché? Cosa c'è? Qua non c'è niente Quindi Andiamo lì Oddio Hai presente quelle specie di muro? Quei quattro muri messi a croce Lì c'è sempre una nota Eh, sì Il problema è che ho paura anche di trovare Slender Oh, sì Eh, è deciso Eh, perché mi fanno qui Tre Tre Be part voi Sei quando ti prende cosi Non comprò molto sulla palla Fai da sull'altra Affiliare Si, si... Mi vendicherò al mio amico Dai, 5 No, 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 no benvenuti ho visto di te no no camper altive disegni giocare abatto filo con l'ultima che viarete il cante si sopra il signo capitale campersi devo più albis pasto come sempre visto dal silo non ho o poco ma poco cosa 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 non ha senso oddio no no ma non ha senso ti ha preso? no no son vivo però c'è... guardalo dov'è è lag ovvio ok il primo biglietto ha preso c'è non ha senso ancora no non riesco a capire no 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 ok il tunnel il tunnel il tunnel ok non sono niente di dove sono ma non ha senso se ma guarda che roba non mi dava problema, problemi sono dalle lacce però guarda che bello giocare il lagoso così guarda 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 ma non ha senso nota ti ho visto oh si è ripigliato nota da tipo 30 secondi di là che poi si ripigliano non so perché ok mi giro piano 4 a 9 ok io sono 2 seconda partita ma ok tu vedo che a sinistra c'è un container dopo il tunnel quindi vado a destra ah ok si si a sinistra dopo il tunnel aspetta dipende anche da che parte lo prendi però eh non lo so ecco 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 e sono fiero della mia scena ok 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 beh se non hai trovato i container sono in mezzo al nulla ah perfetto il che è ancora peggio forse no no nota 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 ok oh culo oh culo in queste partite sono già 3 ma donna è facile sono 4 adesso tu già vuoi due partite ok sono 3 e sto per entrare nel bacio ma non è vero fai bravo bambino ok allora sono tre note stanno nel bagno, sconsigliatissima è sempre lì che mi tissa no non ci credo ho fatto il giro del tunnel ho trovato il biglietto mamma sei già quattro il maestro no 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 lag ecco porca paletta voglio mettere la suspense se mi farò tutte le stanze a quattro biglietti in ogni caso sai cosa succede se lo finisci vero? eh si quello che ho letto da wikipedia mi dice che si sblocca la modalità giorno sblocchi la modalità diurna e si finisce anche quella diurna si sblocchi sempre quella diurna però con slendy marocchino oh gого getYa c'hi fà give me 20 dollars give me 20 dollars nanananah exc ANT oh I want you for 20 dollars ah si aspetta lo sapevo questa cosa e poi più lo senti forte più vuol dire che ti è vicino tipo yoke Sì, non c'è... non c'è il... Insomma, c'è il give me twenty dollars. Ah, ho capito, ho capito. C'è tempo, proprio. Comunque quattro biglietti ho fatto tutte le stanze della casa. Quattro biglietti e sono ancora qui che vado come un deficiente. C'è, forse è la mia peggior partita Slender. C'è queste le mie migliori, proprio, ci ha messo un secondo. Pareri proprio opposti, perché... Niente, c'è, il giro in mezzo a nulla, si inizia una meta. Non trovo più niente, ed è raro, ed è strano che non mi abbia ancora preso. Allora... Ma tu dove sono... Ah, già, attenzione, la torcia si sta affivolendo. Ho porro che fra un po' Fra un po' c'è la torcia, quindi... È vero, è vero che ci spegne da un po'. Dai, Slender. Blender. Devo cercare di non correre. Io invece sto correndo come un pazzo. Vabbè, perché non trovi nulla. Non ho più niente. Rischio, però. Alla qualche parte devo arrivare, perché altrimenti qua... Dai, corrompò, c'è un piccolo scatto. Oh, no, no, no. Eh, sei già stancato, già lì che ansima. Eh... Ma dove sono? No, no, soffitto dalla rete. No, no, no. Ecco, stupendo. Mi hai la chi della mappa. Esatto, via via da proprio brutta roba. Brutta, brutta roba. Ma io non ho idea, neanche comunque di dove sono, eh. Sto vagando un po' a caso. Cioè, c'è quattro note. Cioè, anch'io ho quattro note, però. Eh, vero. Ce l'ho dall'inizio. O te hai fatto due partite, c'è già quattro note. Sono un pro, cosa devo dire. C'azione, c'è l'alberone. All'alberone, vabbè, equivalerà la quinta. Sono dalle rocce che ho già fatto, perfetto, sono troppo indietro. Ok, quinta nota, dimmi che sei qua. No, perché davvero, se no mi sparano i testicoli. Ma quinta? Grande. Dimmi che c'è. Eccola, lag, è lag. È ovvio. Comunque sono la quinta nota. Io credo proprio scusa, ragazzi, però deve laggare oggi. Proprio una nota è sfigata. Allora, spero. Guarda, 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 guarda se si può laggare così. Cioè, come sto andando io di qua? Guarda che roba. Adesso la musica si fa sempre più inquietante. È da un po' di partite che non trovo, tipo, sai, quegli alberi mozzati, cioè, che non hanno sopra. Eh, anch'io non riesco più a trovare. Eh, non riesco più a trovarli, dove sono? Ecco, inizia ad ansimare. Ma sai che se ti prende Slendy mentre laghi, cioè, se ti compaglia Slendy mentre laghi è difficile fuggire. Eh, sì. Sì. Ah, quattro, oh, sono tornato dove ero prima, stessa partita. Ah, no, però ho quattro note. Sai, sono dal... Sono dal camioncino, però ho già trovato la nota nel tunnel, quindi non è possibile che sia qua. Ok, io ho una paura assurda a fare questi... questi muri incrociati. Oh, si è ripreso. Però potrebbe essere... non so, mi ricordo su che camioncino era la nota che non puoi ritrovare. Ok, io non ho il coraggio di girare quest'angolo. C'è la nota, attenzione! No! 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 Non ho il coraggio, oddio, 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 andr segano Headed un'ora in cui servono. Eh, non cioè la nota, mamma, ma dai... Ma qui si è preso? Aspetta, non capisco. Hai preso. Quanta. E sto prendendo la sesta nota, il pers儿ano chi ha girato da sola, mi ha preso. Eh, si. no, e allora c'è stanno ok, ho girato tutti i muri incrociati, non ho trovato nulla vabbè, questa avventura di sdandy finisce qui come sempre, come le altre sempre a 5 note che devo arrivare questo risultato, cavolo sotto la rita, non so dovete montare qui è passato 5 impossibile che continua a provare, io sono ancora 4 saluto ai miei iscritti perchè il nostro video è finito quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace scusate frizzate oddio slenderly davanti oh no, scappa scusa se ti interrompo, ma era abbastanza inquietante sono star, allo sperimenti ti vengo a prendere e ti apro un nuovo buffo nel culo bene, dicevo, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, commentate bla 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 quindi ci vediamo alla prossima, pilatrom1 è tutto mi saluto anche in posto gamita che ringraziamo per essere stato conno ciao trombone, ringrazio anche a te ovviamente e quindi il video finisce qua e mi raccomandate a visitare il suo canale saluto tutti gli iscritti di trombone ecco, salutatelo a vostra volta e quindi ci vediamo a prossimo video alla prossima, ciao ragazzi beh, io ho finito ok, io devo ancora finire sono dal tunnel tanti auguri e la bimba non corre più perchè non ha più forze vai dimmi che c'è un biglietto non c'è, stupendo non c'è ma madonna oh sì, aspetta cos'è quella qua? a quanti sei? ah sì, c'è invece, c'è invece, era lontano aspetta a quanto sei? adesso che prendo questo che lo prendo cinque mi sembra cinque dove sei? sei dalle nonce? no, sono appena uscito dal tunnel ah, dal tunnel vado a? dritto provo ad andare dritto, vediamo vaga vago a caso perchè sono già andato dai container dal bagno quindi vai 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 lo so che adesso mi prende lo so che adesso mi prende ti devo lasciare un attimo, aspetta eh? si, si, tranquillo ok, c'è il camion la timba sta iniziata ad insimare non corre più qua mi prende, me lo sento piano non è stato nulla ah nulla ovviamente qui nulla cazzo cazzo mia mamma mi ha preso troppo un selline eh? fottuto slendy ho sentito in lontanazzo ok, eh, mi ha preso quanto eri? cinque, cinque, due partite dal cinque eh, come me ma dove eri arrivato? eh, ero presente eh, dritto dal tunnel dopo c'è un altro camion con una casettina tipo eh, mi ha preso anche me lì a cinque eh, mi ha preso lì e non c'era niente ho girato la casettina e c'era la nota c'era la sesta e mi ha preso no, da me non c'era la nota però mi ha preso cazzo vabbè, comunque anch'io quindi ho finito il video ovviamente saluto tutti i miei iscritti e tutti gli iscritti di trombone eh, se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace e nella descrizione del video trovate appunto il video del mio amico e ci vediamo alla prossima bella! alla prossima ragazzi!